Sono in tutto quattro le palazzine di Vicolo e Bernava sgomberate su disposizione del settore edilizia pericolante del comune di Palermo. La SIS, ditta che sta eseguendo i lavori per il passante, ha ricominciato a scavare per realizzare la galleria sotterranea tra Piazza Lolli e Vie Mera, ma è stata costretta a interrompere i lavori. Nel sottosuolo della zona, a quanto pare, risulta esserci un canale che non garantisce stabilità al terreno, tanto che si sono registrati smottamenti e movimenti sotterranei. Per non parlare delle ripercussioni delle pareti, degli appartamenti, al punto che, dicono alcuni residenti, le porte non si possono più aprire e chiudere. Si è cercato da parte della ditta di trovare una soluzione, ma a quanto pare non è bastato. Le famiglie adesso chiedono spiegazioni e sono costrette momentaneamente ad abbandonare le proprie case e a trasferirsi in albergo. Non ci hanno fatto prendere niente, subito, subito scendete, scendete, scendete e siamo qua. Quindi non è riuscito a prendere anche le sue cose? Niente, soltanto poi verso le due di notte mi hanno fatto prendere i medicinali, perché sono che prendo i farmaci e tutto qua. Allora, l'aspetto che mi fanno prendere la rimanenza dei farmaci. Ieri mattina verso le 8 mi bussano i miei pompieri, mi dice che succede qua? Mi sono sentita male, io stavo... mi dice ma che è successo? No signor, dovete andare via. Come dobbiamo andare via? Mi dice ma se ieri viene l'ingegnere e mi ha detto così? No signor, devo andare via. Sono tre anni che sono fuori di casa, perché ho tutta la casa tutta squarciata e ancora non prendo nessun provvedimento, perché loro lo sapevano che c'era il fiume Chemone al sotto, che c'è una sorgiva antica, loro lo sapevano. E' sempre acqua, acqua, acqua. Adesso si attende che la SIS completi le opere di consolidamento e solo dopo i residenti potranno ritornare nelle loro case. Intanto i lavori del passante ferroviario in quella zona sono stati interrotti.